Si aprono le gabbie, partiti i cavalli della terza corsa. Quattrocento metri almeno con Sipia Starr in leggero vantaggio nei confronti di Azahara. Più al centro della pista c'è la giuba gialla di Amir. Dietro a questi provano a rinvenire Ewan Abadi. Poi la giuba verde che è quella di Corridonia Johnny cerca lo spazio anche Ture Latif. Quando siamo a 300 dal traguardo Amir è passato e adesso converge o almeno sta cercando la corta. Al centro della pista c'è Ewan Abadi. Gli ultimi centocinquanta metri da percorre con Amir che ha respinto il primo attacco di Ewan Abadi. Amir in vantaggio nei confronti di Ewan Abadi. Amir che regala la doppietta a Cristian Di Napoli. Al secondo posto troviamo Ewan Abadi e per il terzo Ture Latif. Vince dunque Amir alla seconda affermazione in carriera figlio di Levie infinite. Nonostante il sovraccarico è riuscito ad emergere. Paga 5,31 al totalizzatore la quota 5 fissa sul campo. Doppietta per Cristian Di Napoli. I colori del training sono quelli della scuderia Satalia Pansini. Uno al primo posto. Sei al secondo. Nove al terzo. Uno, sei, nove. È l'ordine d'arrivo ufficioso. Numerico e probabile della terza. Grazie. 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 Grazie.